Musica Ciao, mi chiamo Scheletri e sono uno scheletro molto curioso. Mi hanno confinato qui nel laboratorio di scienze, ma io non ce la faccio più e oggi ho deciso di conoscere l'universo. Beh, se non l'universo, almeno quella che c'è intorno al laboratorio di scienze. Mi sento tutto anch'io sato, ho proprio voglia di sgranchirmi un po' di rossa. Ehi ragazzi, vi presento, sono Scheletri, potreste dirmi per il cortesia dove mi trovo? Non sanno più cosa inventare per fare voto con questi ragazzi. Ma che sei innalato? Non vedi che sei delle vetrone? Al Gali? Che cosa? Al istituto di istruzione superiore di Galileo e Vetrone di Benevento. Sì? E che ci fate voi a Galileo e Vetrone? Come? Cosa ci facciamo? Studiamo autors? Ma certo! Noi siamo indietro, il liceo scientifico Galileo. Ma perché? C'è un liceo a Galileo e a Benevento? Ma da dove vieni? Da Dottretomba, per caso? Certo che c'è un liceo! E in questo liceo si fanno anche un mucchio di cose. Un mucchio di cose? Italiano, storie, latino, matematica e prese, come tuttrice scientifici d'Italia. Allora è proprio la testa piena di ossi, Scredi. In questo liceo si fanno cose speciali. Ma sì! Un giorno i professori spiegano, poi ritornano da casa e imparano in memoria quello che abbiamo detto, e poi il giorno dopo li ripetete quello che ricordate. E così via, tutti i giorni, sempre la stessa cosa. Ah sì? Allora vieni a vedere un po' cosa succede da una magna. Oggi sei particolarmente fortunato, Scredi. Abbiamo degli oskidi speciali. Sono i nostri amici indiani. Sono venuti a trovarci perché dalla loro scuola, la St. Mac Senior High School di Nuova Delhi è generata con la nostra. Guarda che bella sorpresa c'è da un due lato. Una danza un po' indiana e un tossico e forte. Ma dove sono? A Benevento oppure nel continente Asiaco? A Benevento, Nesta Assuta, gli studenti di anni sono venuti a trovarci perché hanno partecipato a un progetto del nostro sito. Il progetto si chiama Magic Flight of Benevento, traduzione a Voto Magico Benevento. Magic Flight of Benevento ha vinto un importante premio internazionale conferito dall'Asianzionale, un'organizzazione che vince in scuola europea, sempre. Sì, il premio è stato dato dall'ex presidente del Parlamento Europeo, Rivalmetter Pat Cox. Wow, isn't that incredible? E adesso viene a vedere quando facciamo lezione. Altro che imparare a memoria quello che dicono i prossimi. Bella questa lavagna, ma perché è bianca? E dove sono i gilessi? Non ditemi che non avete gli euro per comprare i gilessi. Stupido scherzo, questa lavagna non è una gente lavagna, è una smart board, ossia una lavagna intelligente. Grazie a lei, lezioni diventano delle reprosi che farò più migliori. Osserva. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Aiuto, aiuto, magia, speconeria, voodoo, questo non lo faccio a parlare. Testa piena di ossa, quel signore, Steve Jobs e da Apple, e questo è il nostro sito di www.lard.it. Attraverso questo sito, internet ci assegna i complici e noi li inviamo a loro, così li possono correggere senza spiegare quanto è giusto. Bravi, siete molti ecologici. Vastissimo livello di carbon footprint, come dice l'insegnante di scienza. E poi, siamo durato anche per lavorare nel progetto con Inus. Adesso siamo in contatto con lo studente di Berlino, Stoccolma e Stavazzelli, attraverso il nostro Google Network. Quanto a quale voto dei miei tipi di benedetto, abbiamo conosciuto ragazzi, tedeschi, sberesi, spagnoli e anche sardi. E come riuscivai a comunicare? In English on course, ormai l'inglese è diventato indispensabile, per questo la scuola organizza viaggi su un dolore del mio lito. Guarda un po' le foto dei miei amici all'oltre. Vorrei cercare da io il posto loro, vedi come si divertono. Sì, però hanno anche studiato. Infatti, alla fine del corso, hanno sostenuto un esame triniti per conseguire il diploma. L'esame triniti? Che cosa? L'esame triniti testa da ora. Il diploma attesta le tue competenze in lingua inglese ed è riconosciuto a livello internazionale. D'altra parte, il Galilei è il testing center per il triniti college di Londra e quindi gli esami possibili effettuati anche qui, presso l'istituto. Come, d'altra parte, anche l'esame di CDL. L'esame C? Che cosa significa il CDL? Che cos'è? L'esame perché è raffreddore, forse? Sciocca testa senza materializzare. Vieni a vedere cosa accade in aula computer. Qui i ragazzi si preparano per conseguire il diploma di CDL, che attesta le competenze in informatica. Anche questo altestato è riconosciuto a livello internazionale. Internazionale? Ma non esageriamo. Certo, internazionale. Ma lo sai che gli studenti del Galilei partecipano anche alle Olimpiadi? Alle Olimpiadi? No, questo non ci credo. E che medaglie vincono? Di plastica? Di cartone? E quali specialità? Il salto in basso? Stupido planio senza sinapsi. Gli studenti del Galilei partecipano alla biblioteca di scienze e di matematica con ottimi risultati. Adesso andiamo a vedere cosa succede nel laboratorio di chimica. Quante belle bottiglie colorate. Che cosa sono? Di cuore strega? Sì, probabilmente un po' di cuore. Vedrai cosa succede. Fatto non può essere più sciupato di così. Crane senza cervello. Questo è il nostro laboratorio di chimica. Noi lo siamo per studiare la biblioteca. Non solo sui libri, ma attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni. Insomma, il metodo sperimentale Galileano. Ah, ecco perché questo liceo si chiama Galilei. Vuoi vedere chi scrive anche io solo il nostro liceo? Ci penserò. E anche voi ragazzi. Pensateci. Liceo Galilei è la scuola per ragazzi fighissimi. Allora siamo d'accordo? Ci vediamo tutti a Galilei. Ciao! Ciao!